La Guerra di Trincea, un simbolo della Prima Guerra Mondiale La Guerra di Trincea è diventata un simbolo della Prima Guerra Mondiale, un conflitto che ha segnato profondamente la storia dell'umanità. Questo tipo di combattimento si caratterizza per la sua staticità e per le condizioni estreme in cui i soldati erano costretti a vivere e combattere. Strutture e funzione delle trincee Le trincee erano sistemi di fortificazioni scavate nel terreno, progettate per offrire protezione dai proiettili e dall'artiglieria nemica. Queste lunghe fosse erano collegate da una rete di tunnel e postazioni di combattimento, creando una linea difensiva che si estendeva per chilometri. La vita in trincea La vita quotidiana dei soldati in trincea era dura e pericolosa. Le condizioni igieniche erano pessime, con la presenza di parassiti e malattie. I soldati dovevano affrontare il freddo, la pioggia e talvolta anche attacchi chimici. La costante minaccia di morte e la vicinanza con i corpi dei compagni caduti rendevano l'esperienza traumatica e disumanizzante. La battaglia di Verdun, un esempio di guerra di trincea Un esempio emblematico della guerra di trincea è la battaglia di Verdun, uno dei conflitti più lunghi e sanguinosi della Prima Guerra Mondiale. Durante questa battaglia, circa 700.000 soldati furono feriti o uccisi, e la linea del fronte rimase sostanzialmente invariata nonostante i mesi di combattimento. Le conseguenze della guerra di trincea Le conseguenze di questo tipo di guerra furono devastanti sia in termini umani che materiali. Milioni di soldati persero la vita o tornarono a casa con gravi traumi fisici e psicologici. La guerra di trincea ha lasciato un'impronta indelebile nella storia. La guerra di trincea è stata una delle caratteristiche distintive della Prima Guerra Mondiale, segnando profondamente la strategia militare e l'esperienza dei soldati al fronte. Ecco un approfondimento sull'argomento. Struttura delle trincee Le trincee erano sistemi di fortificazioni scavate nel terreno, spesso profonde e rinforzate con sacchi di sabbia, legno e filo spinato. Queste strutture fornivano protezione dalle armi da fuoco e dall'artiglieria nemica. Vita in trincea i soldati vivevano in condizioni estreme, esposti a malattie, parassiti come i pidocchi e malnutrizione. Il fango, il freddo e la pioggia erano costanti, così come il pericolo di attacchi chimici e di artiglieria strategia e tattica la guerra di trincea era, caratterizzata da una strategia di stallo, con pochi avanzamenti significativi. Gli attacchi erano spesso preceduti da intensi bombardamenti, seguiti da assalti alla baionetta attraverso la terra di nessuno, la zona tra le trincee nemiche. Conseguenze psicologiche i soldati soffrivano di gravi traumi psicologici a causa dell'orrore e della brutalità del combattimento in trincea, oltre che per l'isolamento e la tensione costante e superamento della guerra di trincea con il tempo, furono sviluppate nuove tattiche e tecnologie, come i carri armati e la guerra aerea, che contribuirono a superare la staticità della guerra di trincea. La guerra di trincea rimane uno degli aspetti più studiati della prima guerra mondiale, rappresentando la futilità e l'orrore della guerra su larga scala. Le principali battaglie di trincea durante la prima guerra mondiale sono state cruciali per il conflitto e hanno segnato, profondamente, la storia. Ecco alcune delle più significative. Battaglia della Marna, combattuta nel settembre 1914, fu uno scontro cruciale tra le forze tedesche e francesi. Questa battaglia segnò l'inizio della guerra di trincea e si concluse con una vittoria strategica per gli alleati. Battaglia di Verdun, durata dal febbraio al dicembre 1916, fu una delle più lunghe e sanguinose battaglie della guerra. Le trincee furono teatro di feroci combattimenti tra francesi e tedeschi. Battaglia della Somme, combattuta tra luglio e novembre 1916, coinvolse le forze britanniche e francesi contro l'esercito tedesco. Le trincee furono al centro di questa battaglia. Con pesanti perdite da entrambe le parti battaglia di Paschenda e la terza battaglia di Ipres, si svolse tra luglio e novembre 1917. Le trincee fangose e distrutte dal costante bombardamento furono il terreno di scontro tra britannici e tedeschi. Battaglia di Caporetto, nel 1917. L'esercito austro-ungarico e tedesco sfondò le linee italiane sul fronte dell'Isonzo, portando a una ritirata disastrosa per gli italiani. Le trincee furono fondamentali in questa battaglia-battaglia di Cambrai, nel novembre 1917. I britannici utilizzarono carri armati in massa per sfondare le linee tedesche. Anche se non fu una vittoria decisiva, dimostrò l'importanza delle tattiche innovative in un contesto di trincee-battaglia di Piave. Nel giugno 1918, le forze italiane respinsero l'offensiva austro-ungarica sul fiume Piave. Le trincee furono fondamentali per la difesa italiana. Queste battaglie rappresentano solo alcuni esempi dell'importanza delle trincee durante la Prima Guerra Mondiale. La guerra di trincea fu un aspetto cruciale del conflitto, con gravi conseguenze per i soldati coinvolti.